Basta saper chiedere bene e presentare delle buone motivazioni per avere la solidarietà della gente. La solidarietà si esprime anche con piccoli gesti ma significativi. Copp Lombardia così ha donato 1500 panettoni di Natale per tutti gli ospiti del Pio Albergo Tribulzio, l'istituzione milanese che da sempre si prende cura delle persone più deboli o che affrontano momenti difficili della propria vita. La solidarietà è sempre una cosa importante per i cittadini. È una solidarietà che non si chiama solamente assistenza, si chiama filantropia e la filantropia vuole vedere progetti concreti che si realizzano, vuole vedere i risultati di quei progetti, vuole poterli misurare. Noi abbiamo una struttura che è misurabilissima qui dentro, dobbiamo solamente vedere quanti soldi impieghiamo e che risultati abbiamo. E i risultati sono nel benessere delle persone. Ad ospitare lo scambio di auguri sono stati due reparti particolarmente significativi nella storia del Pio Albergo Tribulzio, l'unità operativa di riabilitazione ad indirizzo oncologico Turoldo, dove gravitano pazienti dai 50 agli 85 anni che necessitano di trattamenti a supporto della terapia riabilitativa, e il reparto RSA Bezzi, cuore della storia dell'istituto, dove vengono ospitati più di 200 anziani. Ci sono belle come iniziative, che vanno bene, ci vogliono sempre di farle. Il tema della solidarietà è un tema importante. Sì, è giusto. Come vive qua? Non è mica male, si vive bene. Non è male qui. Qui dove ha fatto su tutto qui va bene adesso. Lo mangerò, lo porto a casa mia figlia, che poi dopo me lo porto tutti i giorni, fette già tagliate, pronte, così siccome non posso troppo muovere le mani, cioè il formico lì, allora non sentendo troppo il tatto me lo prepara lei. È contenta di aver ricevuto questo panettone? Beh, non tanto per il panettone, ma per tutto quello che ha a che fare con il panettone, cioè il Pio Albergo Tribulzio. Da più di due secoli il Pio Albergo Tribulzio si prende cura degli anziani di Milano. In futuro l'istituzione pensa di poter investire in nuovi progetti. Per noi rappresenta un seno di vicinanza straordinario, di apertura al Tribulzio, alla città e anche in questo caso ad una grande azienda come la Copp. Noi regaliamo ovviamente, grazie a questa donazione della Copp, ad ogni nostro ospite un panettone. È un modo per ricordare il Natale, ma anche per ricordare a chi è fuori il Tribulzio, che esiste il Tribulzio, che esiste una grande umanità dentro il Tribulzio. Una collaborazione che durerà nel tempo? È l'inizio e noi speriamo di sì, in termini proprio di partnership con questo grande marchio, questo grande, si dice, brand. Però è importante fare progettualità anche insieme ai comuni. E noi abbiamo visto già i parenti a cui abbiamo consegnato, i familiari e gli ospiti stessi, aver gradito molto questo importante segnale. Perché, ripeto, oltre a Tribulzio che dà il panettone c'è la vicinanza di una grande azienda come la Copp. Grazie. 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 Grazie.